bello a tutti ragazzi sono da voler salvo a nessuno ed oggi faremo vedere la mega pozione di ondome che si trova solo in x sono riuscito per culo a riceverne uno in cambio di manectric comunque andiamo scusate scarteremo mio è lo smergol vai ondome ed ecco mega ondome il diavolo in persona il numero 666 no col stronzo ha levitato ce ne sarà mai e vai smergol vai a fangiro e comunque ragazzi questo è tutto ci vediamo alla prossima volta con un nuovo video bella ragazzi bitch